ciao a tutti ben tornati paolo guala canale dsl di stato le impressioni sulla presentazione del galaxy note 4 e dei vari gear s e dei vari gear vr cioè la realtà virtuale cioè ci sono state delle presentazioni importanti ieri sicuramente questo video spero vi farà piacere a qualcuno mi aveva già chiesto poi di fare appunto un commento su quanto visto ieri all'unpacked di samsung mobile allora cosa cosa dire ben galaxy note 4 un po quello che ci aspettavamo tutti abbiamo visto questo questo smartphone ridisegnato esteticamente quindi è stato ridisegnato esteticamente stile galaxy s5 per interesse un po come il galaxy note 1 assomiglia un po po tornati ai quattro terzi con questo con questo con questo design rivisto più leggero molto compatto sostanzialmente novità essenzialmente sono lo schermo in qhd 2k come quello del g3 che ci aspettavamo tutti andare in q hd perché per il resto sono rimaste le caratteristiche tecniche adesso vi citerò insomma insomma che ci si aspettava non c'è una vera e propria rivoluzione un miglioramento come dall s4 s5 rispetto alla note 3 cioè un miglioramento estetico un miglioramento di ottimizzazione una batteria leggermente più potente lo schermo in qhd poi sono stati presentati anche il samsung gear vr che è una verità 199 euro cioè questo appunto visore di realtà virtuale dove noi possiamo inserire il note per i film e per i giochi avere appunto già la realtà virtuale che è una tecnologia nuova che si sta facendo io avevo detto che la tecnologia corre e che andavamo verso il mondo della realtà virtuale anche nei vari quattro minuti quando qualcuno mi ha chiesto come vedevo la tecnologia in futuro vi dicevo appunto che sarebbero arrivate anche questi visori poi c'è un bundle che ha appunto che ha scusate il gear vr più il gamepad perché appunto i giochi con realtà virtuale aumentata che interagiscono con questo visore possono essere già venduti in bando con il gamepad e poi c'è il samsung gear s che ha il nuovo wear ball super potente 399 euro quindi il wear ball più più caro visto ad oggi quindi questi orologi multimediali che stanno invadendo il mercato come il gear fit come il sony watch come anche leggi watch quindi tutti praticamente questi smart watch questi wear ball che invadono invadono il mercato sempre più wear ball sempre più su questo posto il wear ball avrò tizze nel sistema operativo quindi avrà anche una connessione 3g quindi sarà un vero e proprio mini smartphone da polso con funzioni avanzate diciamo di schermo curvo due per un pollice e mezzo due insomma abbastanza ampio bello esteticamente però secondo me un po troppo caro ecco andiamo a parlare un attimo delle caratteristiche tecniche del note 4 per quello che mi interessa poi citarvele ovviamente belle complete allora il note 4 visto che poi tutti si attendevano dei vari rumus è un 4 glte che era quindi 150 megabit download 50 upload lte categoria 6 ovviamente 350 300 bar 50 megabit per secondo poi a un processore opta corda 1.9 giga moltiplicato 1.9 giga quad o più 1.3 giga quad core processore ovviamente ci sono due tipologie di processori per i vari paesi ce n'è anche uno da 2.7 giga quad core che però non dovrebbe arrivare in italia android 44 kit kat la tele scusate la fotocamera una 16 megapixel con autofocus con le varie funzionalità del presente del galaxy s5 quindi nel real facing eccetera 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 i video ovviamente vengono girati e registrate anche in ultra hd quindi nei 2k che vi dicevo qui perché un qhd ovviamente quindi tutti i codec presenti dal full hd all'alta definizione dell'ultra hd l'audio tutti i codec esistenti ovviamente dall mp3 in su ovviamente a tutti i codec audio si vm7 gli mp43 vp8 record e anche scusate stavo confondendo il video con l'audio scusate mp3 a ac ovviamente vma eccetera eccetera poi ultra hd quality audio a 192 kph quindi una anche se è stato spostata poi la cassa qualcuno ha criticato la nuova posizione dell'altoparlante ma forse per un motivo proprio hardware non hanno potuto che posizionali le spen ottimizzata ridisegnata leggermente e il multi windows di di additional features sono le stesse che trovate sull s5 le varie download booster e super risparmio energetico la connettività wifi ovviamente a bgn ac e gps glonass nfc bluetooth 4.1 ir led remote contro le usb 2.0 3.0 mhl ovviamente per collegare in hdmi al televisore la memoria 32 gb interni espandire fino a 64 giga e 3 giga dirà qualcuno si aspettava i 4 giga di ram ma ma sono rimasti tra ma secondo me sono più che sufficienti però ve l'avevo già detto non è quello che fa la differenza 153 mm altezza 78 di larghezza e solo 8,5 lo spessore quindi molto compatto sottile e soprattutto 176 grammi solamente per un 5.7 pollici multi touch capacito ovviamente neanche a dirlo q hd dicono un grandissimo display dalle immagini che ho visto ieri sembra sicuramente un grandissimo display batteria standard 3220 milliampere ora che dovrebbe garantire la stessa autonomia del note 3 in quanto potenziando leggermente anche lo schermo l'assorbimento di energia sarà leggermente più alto quindi prima avevamo una 2008 una 3000 adesso una 3220 quindi dovrebbe coprire comunque la giornata è stato presentato anche il modello edge che è un note 4 con uno schermo laterale a scorrimento che per risparmere energia ci permette di avere le notifiche sono su questa smussatura uno schermo smussato sul lato destro nel quale possiamo scorrere le notifiche esteticamente discutibile c'è chi può piacere avere questa smussatura con uno schermo laterale ma sinceramente no preferisco avere tutto su uno schermo come un telefono tradizionale come dire il g3 invece questo nuovo edge e fingete che questa legge dell'avete già vista questo schermo che si piega qua dove possono scorrere tutte le notifiche questo fa sì di risparmiare anche un po di di a detta dei di samsung di energia mi la trovo una cosa si commerciale insomma una seconda versione per destare un po di interesse ma non mi sembra che questa smussatura uno schermo sia una novità cosa importante da giustificare poi l'acquisto di questo note 4 edge ecco questo volevo dire per quanto riguarda la disponibilità del prodotto ottobre quindi circa i primi di ottobre dovrebbero arrivare sul mercato sia il vr che il gear s che note 4 che legge i prezzi di vendita sempre bassi no come al solito veramente ironico 699 729 il note 4 399 il gear s 199 il lettore di realtà virtuale aumentata il gear vr e la il pacca 279 con il gamepad è incluso col guerra cosa penso io di tutto quello che vi ho detto intanto che l'abbiamo presentato beh il mio parere personalmente che io dal note 4 mi aspettavo qualcosa di più nel senso che bello lo schermo in qhd ma gli schermi sono tutti fantastici lo vediamo oggi che vedete il tab s solo in full hd anche la percezione del qhd su uno smartphone non è così elevata quindi si migliora ma anche un full hd di grande densità di ppi per con 551 ppi il note 4 può paragonarsi quasi avvicinarsi nel momento al qhd dovete col tab s che schermo fantastico quindi la novità era magari rendono impermeabile perché non ha la certificazione dell s5 ecco il note 4 mi sarebbe aspettato che avesse appunto l'impermeabilizzazione come l'S5 per dire sarebbe stata una cosa interessante non capisco perché sansun non l'ha reso impermeabile e e questo mi ha lasciato un po deluso per il resto del rivedimento estetico più leggero più bello schermo migliore chiaramente sono al note 3 perché non passare al note 4 grandissimo prodotto però innovazione di sé per sé non c'è non c'è è un miglioramento del note 3 potenziato che giustifica l'acquisto per uno che continua a comprare la famiglia note sicuramente sarà un bellissimo prodotto mi aspettavo però qualche innovazione in più e anche soprattutto la certificazione p67 almeno per l'impermeabilizzazione del prodotto per quanto riguarda legge perlomeno con questo schermo smussato abbiamo una piccola innovazione ecco però io io non particolarmente esteticamente non mi non mi ha preso ma potremmo dire che l'unica vera innovazione c'è dal modello edge invece la cosa che mi ha che mi è piaciuta questo visore di realtà virtuale soprattutto col discorso di vendolo insieme al gamepad potrebbe essere una cosa poi mi pare che sia compatibile anche con l'S5 non penso che sia compatibile solo con nota adesso ieri non ho seguito bene la cosa se lo rendono compatibile con anche gli altri smartphone samsung sarebbe meglio al momento mi pare sia compatibile all'inizio solo con note 4 quindi questo questo diciamo visore è almeno una novità una nuova tecnologia che già sony vuole vuole appunto c'è un visore che adesso la onculus questa questa azienda che l'ha sviluppato per samsung può interagire con la ps4 quindi stanno arrivando la samsung furba si è accapparata subito questa nuova tecnologia per dare anche un risvolto questo mercato che stagna nella potenza di queste android che si potenti si potenziano ma alla fine ci vuole sempre la cosa nuova di rs di rs è un wear ball di quelli veramente interessanti tizen connettività browser si funziona avanzate però 399 euro per un wear ball incominciano essere tanti l'utilità di questi prodotti secondo me come il gear fit voglio fare sport o l'orologio me lo porto in giro per le notifiche 180 150 euro 100 150 170 euro secondo me il prezzo di questi prodotti che al momento per l'utilità che hanno secondo me 399 e 199 euro a uno sproposito il prodotto sembra valido ma secondo me costa troppo ecco io penso che 229 euro 200 massimo 40 euro quel prodotto questo rs poteva essere messo sul mercato da samsung sicuramente patirà il prezzo ma poi se ci sarà un calo verticale a quei prezzi che potrebbe essere un acquisto per uno che vuole perché ha funzioni complete per lo sport sensori vari anche il browser cioè la connettività internet ha un sistema operativo utilizzo quindi sicuramente una cosa più completa ma il prezzo è veramente un po oltre la misura quindi diciamo che la pack di samsung mi ha soddisfatto al 50 per cento il note 4 bellissimo miglioramento del note 3 ma non ha quelle novità che magari ci aspettavamo proprio sì il visore ma il visore una cosa parte ecco legge carino questo schermo laterale potrà piacere quindi diciamo un pizzico di novità comunque un note 4 supersonico soddisfacente sicuramente che giustifica l'acquisto rispetto al note 3 anche se io sono comunque certificazioni di impermeabilizzazione altre novità me le aspettavo e il grs costa troppo il wear ball però è bello ma deve scendere di prezzo e per quanto riguarda invece del sensore di realtà aumentata il vr invece è una bella secondo me una bella mossa di samsung che si porta avanti con queste tecnologie propone un prodotto a un prezzo che non vi saprei dire perché essendo una tecnologia nuova 199 euro potrebbero sembrare pochi magari sono tanti per un visore non lo so perché la tecnologia nuova comunque non mi sembra un prezzo esorbitante costa come un gear fit perché non provarlo canale di essere di stato è tutto tra poco arrivano i 4 minuti stiamo insieme come sempre ciao grazie da paolo guala alle prossime